Il giorno in cui il terrorismo ha dichiarato guerra alla libertà di espressione. Le immagini sono del giornalista Martin Boudot, sopravvissuto alla decimazione della redazione di Charlie Hebdo. Nella sede del settimanale satirico hanno fatto irruzione tre uomini armati di Kalashnikov, compiendo una strage che si è completata all'esterno con l'uccisione di un poliziotto che aveva provato a sbarrar loro la strada. Morti tra gli altri alcuni dei più noti vignettisti, Volinsky, Tignot, Cabu e il direttore Stéphane Charbonnier, detto Charb, è un agente della sua scorta. In totale 12 morti, ma alcuni dei feriti sono molto gravi. Le grida abbiamo vendicato il profeta, là è grande, le tante minacce ricevute dal giornale, il precedente attacco alla vecchia sede nel novembre 2011, tutto porta verso la matrice islamica di quest'atto, immediatamente condannato da tutti i leader politici in Francia. Europa e Stati Uniti, ma anche dalle autorità musulmane e francesi. L'allerta è altissima in tutta l'Ile de France, la regione di Parigi e soprattutto nella capitale. Una unità di crisi lavora incessantemente al Quai des Orfèvres, la sede storica della polizia parigina. Un numero verde è stato approntato per fornire qualsiasi testimonianza utile. Rinforzata la sicurezza attorno a tutti quelli che sono considerati obiettivi sensibili. È caccia scatenata agli autori della strage, rivolta soprattutto alle periferie di nord-est. Quella la direzione presa infatti dai terroristi, prima con la loro auto abbandonata in seguito a un incidente a circa 4 chilometri dal luogo dell'attentato. La fuga è proseguita a bordo di un'altra vettura rubata.